Poi è un augurio, l'augurio a tutti gli artisti che non si dimentichino di essere anche prima che artisti pazzi, sentito la provocazione. Quando eri pazzo facevi cose pazze, la gente aveva paura di te, i sorrisi ironici li evitavano con te, temevano un coltello fra le costole perché con i pazzi non si può sapere. Poi certe cose pazze che facevi hanno avuto successo e si è sparsa la voce, non è pazzo, è un artista. Così la gente non ha più avuto paura, i sorrisi ironici adesso te li può fare tranquilla, può sparlare di te tranquillamente, non teme un coltello fra le costole e se ne fotte di te. Un artista è un pazzo che non fa più paura a nessuno. Grazie a tutti.